Le male lingue dicono che a Teramo a comandare è Paolo Gatti, non fosse altro per i numeri che ha in Consiglio Comunale tra assessori e consiglieri, ma è proprio così. Più che male lingue sono leggendo in metropolitane, il sindaco Ebrucchi ha una sua maggioranza, sua squadra di governo e io faccio un altro lavoro, faccio il consigliere regionale, anche il vicepresidente del consiglio regionale. Quelle rare volte che mi vengo interpellato per qualche consiglio lo do, qualche volta vengono seguiti e qualche volta no, ma veramente più che male lingue sono leggende metropolitane. Gli assessori che fanno riferimento a lei hanno avuto qualche piccolo problema, non fosse altro per la neve da Lucantoni, per i soldi che non ha Rudi di Stefano, per il problema del trasporto scolastico Romanelli, ecco cos'è sfortuna o c'è altro? Se ci attardiamo a parlare per giorni di un paio di giornate di neve e qualche disagio, secondo me commettiamo un errore e allo stesso modo parlando una settimana o dieci giorni del concerto di Capodanno, tra l'altro a costo zero per i cittadini, vuol dire che forse tanti altri problemi non ne abbiamo. Qualcuno verrebbe Paolo Gatti che oggi fa il vicepresidente del consiglio regionale come possibile o probabile o papabile candidato a sindaco di Teramo, c'è qualcosa di vero? No, forse questo nasce per il motivo che ho detto che alla regione non mi candiderò più perché essendomi candidato già due volte sono interessato alla città dove sono nato, dove vivo, dove vive mio figlio, dove viverà anche il mio secondo figlio. Quindi sono interessato ai destini della città di Teramo sopra ogni altra cosa. Me ne interesserò ma non sto a pensare a quello che farò io tra tre o quattro anni. Adesso la cosa più importante è che questa amministrazione lavori bene, riesca a progettare il futuro oltre che a vivere il quotidiano. Questa secondo me è la sfida per chi vuole bene a Teramo, poi chi ha altri interessi farà altre scelte. Un futuro inizio. Sì, un futuro inizio sicuro.